E ragazzi per la partita di oggi siamo in nove, manca un difensore. Ma c'è Marco? Io non ci sono. Ma cos'hai da fare di così importante? Esco con i miei. E come facciamo? Giochiamo in nove? Ma c'è il domenico? Chi? Se venisse giocherebbe da solo, sapete com'è fatto. Hai mai detto una parolaccia? Una sola? Hai mai detto una bugia? Ma dai! Tipo, maestra mi fa male la pancia. Posso andare in bagno? Hai mai baciato qualcuno? Ma va! Ma è vero, sceme! Scusa! Buongiorno bambini! Buongiorno! Allora, oggi c'è il lavoro di gruppo in geografia. Ragazzi, ricordatevi anche che la settimana prossima faremo tutti quanti assieme nell'atrio l'albero. Però non dimenticate, dobbiamo portare tutti delle palline, va bene? Sì! Ma i gruppi per il compito? Di quante persone? Anche due! Facciamo gruppo? Separato! C'è? Io faccio per me e tu per te. Ma che gruppo è? C'è? Come porta? description Ho una? Ho tool! Ti serve aiuto? Non hai ancora fatto niente Noi abbiamo già finito Ma cosa vuoi? Io so di lavorare da solo Evidentemente voi no Ehi, mi hai fatto cadere il libro Vabbè? Almeno raccoglilo Non è mio, non prendo le cose degli altri Non credo proprio Hai la mia pena sul tuo banco Non prendo le cose degli altri che non mi servono Potresti ridarmela Quando ho finito te la puoi riprendere Guarda, sta uscendo Chissà cosa farà lo sfigato Che c'è? Sono dei miei amici Staranno scherzando Che belli amici Lo so, anche mi dispiace Ma voi lo conoscete, no? Se ci avviciniamo ci offende Forse sbagliamo anche noi Sì, a dare il reto No, ad offenderci Cioè? Non dobbiamo pretendere nulla da lui Dovrebbe capire che ci sono cose che da sole non si riesce a fare Lui non troverà mai il coraggio di ammettere che ha bisogno anche degli altri Dovremmo farglielo capire Vuoi anche una rossa? Domenico, ti ricordi che oggi c'è da fare l'albero? Hai portato una pallina? No, la pallina, me ne sono proprio dimenticato Tranquillo, ne ho portate due Prenderai una delle mie Grazie No, no, tranquillo Il libro è mio, non l'hai fatto apposta Buongiorno ragazzi Buongiorno Allora oggi mi consegnate tutti i lavori che avete fatto in gruppo E dopo approfittiamo e andiamo a fare tutti assieme l'albero, va bene? Sì Sì Allora cari bambini Gli stati in totale sono 49 e non come ho letto da qualcuno, 43 Probabilmente avete usato una vecchia cartina con l'ex Jugoslavia Ehi voi due, mi state seguendo? Sì, sì, maestra Che bella Ah, la pallina, amicizia Fermi, la vostra corsa finisce qui A me, grazie Domenico, ecco la tua pallina Grazie a tutti Grazie a tutti.